La prova definitiva della tua follia Non avrei mai immaginato nella vita di fare il sindaco della mia città, ma davvero mai Uno anche da bambino immagina le cose più diverse, cosa vuoi fare da grande Mai avrei pensato e immaginato un giorno di trovarmi ad essere sindaco della città in cui sono nato Sindaco della città che amo, sindaco della città che per me è la più bella del mondo Ovviamente sono partigiano in questo sicuramente, però è innegabile che sia una tra le città più belle del mondo Oltre che tra le più difficili Come nasce l'idea di candidarmi a sindaco di Napoli? Io all'epoca, dopo l'esperienza in magistratura, ero deputato al Parlamento europeo Un'elezione importante, un mezzo milione di voti Presidevo forse la commissione più importante, il Parlamento europeo Una delle più importanti, la commissione controllo bilancio Quella che si occupa dei fondi europei, di come vengono spesi, delle frodi, della trasparenza, della correttezza, lotta alla corruzione Quindi era un po' in un'altra veste il proseguo della mia attività di magistrato in cui mi sono occupato soprattutto di criminalità organizzata, di corruzione, di reati contro la pubblica amministrazione Quindi truffe europee, frodi e quant'altro Napoli viveva un periodo drammatico Lo ricordiamo tutti, oppure bene sempre ricordare Non perdere la memoria di quello che sono state le cose belle ma anche le cose brutte Napoli aveva rifiuti al primo piano Era una città ferita, mortificata, depressa La gente era avvilita Io non la ricordo quella fotografia delle persone che camminavano mortificate con la testa piegata In Europa quando dicevo ai miei colleghi che erano napoletano Molti si lasciavano uscire E ne napoletano, spazzatura, munnezza, camorra, rifiuti Era davvero un pugno nello stomaco per chi ama la nostra città E quindi a me non venne proprio in mente Si avvicinava il periodo delle elezioni Perché io sono stato eletto nel 2009 Si è votato nel 2011 Intorno al 2010 E' cominciato un po' il dibattito come sempre accade Un annetto prima Il toto candidature Ma pensavo proprio Poi devo dire Sotto Natale, più o meno Natale parliamo del 2010 Cominciò per primo mio fratello, devo dire Lo ricordo bene, Claudio Il quale un giorno mi disse Senti ma qua la situazione è davvero drammatica in città Non si vede una via d'uscita I partiti che governavano la città In particolare il Partito Democratico Stavano in caduta libera Si avvicinava a una destra Pericolosa che non convinceva Non piaceva E insomma lui mi disse Perché non pensi di candidarti tu? Io la prima reazione devo dire Fu una sincera risata Perché non Parte che non avevo proprio in programma Di nuovamente mettere in discussione la mia vita Dopo già un periodo più che turbolento in magistratura Adesso avevo cominciato un'avventura Sicuramente con meno pressione Della prima linea del magistrato in Calabria Ma una funzione altrettanto difficile Impegnativa Piena di responsabilità In un contesto europeo Con tanti paesi all'epoca 27 Dell'Unione Europea La responsabilità di essere presidente Di una commissione così importante Poi devo dire Un po' alla volta In quei giorni Arrivò più di una sollecitazione E poi all'improvviso Come accade nelle scelte più importanti Mi è scattata effettivamente una molla dentro Una scintilla Perché effettivamente Napoli Veniva da piangere a vederla così Poi la gente sembrava anche rassegnata Quindi non c'era nemmeno più la fase Della rabbia Dell'indignazione Della protesta Si camminava accanto a questi cumuli Che arrivavano a Via Toledo Quindi in pieno centro Dove avevano l'ufficio di parlamentare europeo Arrivavano al primo piano Non aveva manco voglia di andare a mangiare a ristorante Talmente il puzzo che si sentiva In alcune strade della città Rifiuti bruciati Turisti Ma manco col cannocchiato Non c'era niente E quindi insomma Iniziai a maturare dentro Questa scelta E ricordo due momenti Uno quando lo dissi a casa Disse a Maria Teresa A mia moglie Ho deciso di candidarmi a sindaco di Napoli Maria Teresa mi guardò negli occhi Per diversi secondi E poi mi disse La prova definitiva della tua follia Effettivamente è così Perché nessuno immaginava che io potessi vincere Si andava a lasciare una funzione importante Devo dire anche ben remunerata al Parlamento europeo Insomma c'erano tutte le condizioni Perché apparisse una follia Ma soprattutto perché non si poteva proprio prevedere Che uno potesse vincere Credo che all'inizio ci credevo solamente io E la seconda me la ricordo Il lancio L'ufficializzazione della candidatura A marzo dell'undici Al cinema modernissimo di Napoli E che devo dire L'HP Che piaceva A un certo ambiente Di una città che si voleva riscattare La mia candidatura Vedi tanti giovani Tanti amici Tanti concittadini Tante persone che non conoscevo Esponenti di associazioni Comitati Intellettuali L'HP Ebbe una bella iniezione di fiducia E cominciò Una campagna elettorale Rivoluzionaria Credo irripetibile Vicolo per vicolo Piazza per piazza Strada per strada Casa per casa Perché poi tra l'altro Ricordiamolo Io Vivevo in Calabria Ormai da molti anni Anche il periodo Del Parlamento europeo Pur tornando spesso a Napoli Dove avevo la mia famiglia d'origine Ma vivo in Calabria Quindi comunque Pur essendo napoletano Napoletani i miei genitori Famiglia napoletana E' conosciuta anche in città Con tanti amici Però Io dovevo In ogni posto che andavo In qualche modo Presentarmi Spiegare la mia storia Spiegare perché Ritenevo Avevo ritenuto Di candidarmi E convincere le persone Perché potessi essere affidabile Nel consegnarmi le chiavi della città Che è un gesto di grande fiducia Soprattutto per chi non ha partiti alle spalle Non ha strutture Non ha parati Quindi abbiamo cominciato Quella campagna elettorale Dal basso Appoggiato da liste civiche Ci fu Soprattutto all'inizio Anche un appoggio All'epoca dell'Italia dei valori Guidata da Antonio Di Pietro Però fu una vittoria del popolo In realtà di nessun partito E quindi già all'epoca Di uno schieramento civico Di uno schieramento popolare Di uno schieramento dal basso Arrivai Al ballottaggio Quando davvero nessuno Ci credeva Il candidato del centrodestra Che senza la mia candidatura Lettieri avrebbe vinto al primo turno Si ferma a circa il 38% Io arrivo tra il 27% e il 28% Poi terzo Morcone Il candidato del Partito Democratico Intorno al 20% Raimondo Pasquino Candidato all'epoca terzo polo Intorno al 10% E mi pare ultimo Roberto Fico All'epoca già esponente Importante Il Movimento 5 e 6 Credo intorno al 3-4% Quindi si va al ballottaggio E là poi Il vento in poppa Raggiungo Supero E lascio Incredibilmente Profondamente indietro Il mio avversario Vincendo con circa il 70% Dei consensi Quasi mezzo milione di voti Quei 15 giorni Sono stati Bellissimi Indimenticabili La gente Già mi chiamava sindaco Per strada Pur non avendo ancora vinto le elezioni Cioè è stato il popolo Che ha voluto quella rivoluzione Che l'ha percepita Come possibilità di riscatto Ho visto crescere La partecipazione Quindi trasformare il sentimento Della depressione In indignazione In partecipazione In mobilitazione In coinvolgimento Uno spirito Di comunità E credo che è accaduto Qualcosa di ripetibile Cioè una persona Inizialmente da sola Con tanti giovani volontari Con persone della società civile Con il popolo Batte Dei colossi Alla politica Perché da una parte C'era il centro-sinistra Uscente Che aveva governato Per vent'anni E forse anche più No di più Poi c'era un centro-destra Fortissimo C'era Berlusconi Presidente del Consiglio Cosentino Cesaro Caldoro Lettieri Poi c'era un terzo polo Forte Un'area moderata Da casini Affini C'era il Movimento 5 Stelle Quindi è stata Veramente una rivoluzione Popolare Una vittoria Di popolo Poi conclusasi Con quella festa In piazza Municipio Quella passeggiata Dal lungomare Fino alla piazza Che sembrava La vittoria Dello Scudetto Ma la frase Forse più bella Che mi è molto cara E poi quella frase Di Paolo Borsellino Festeggiando La vittoria A piazza Municipio E vedere Le finestre Dei balconi Chiuse Era quello Proprio Di dare l'idea Che sarebbe La differenza Di quando io sono andato via Noi l'abbiamo detto In tutte le salse Qual era la fotografia Dei conti Del debito Del disavanzo E della cassa Del comune di Napoli Quindi quando io Mi sono insediato Certo sapevamo Che non Si trovava In buone acque Il comune di Napoli Ma non pensavamo Che fosse Sostanzialmente In dissesto Quindi quando mi insediai C'era la prima emergenza Che bisognava risolvere Perché era il tema Il problema dei temi Il problema dei problemi Che erano i rifiuti Cioè se non toglievi I rifiuti Tutto ciò Che si era detto In campagna elettorale Soprattutto cultura Turismo Rigenerazione urbana Partecipazione E riscatto Obiettivi irraggiungibili Se non toglievi La spazzatura Da terra Quindi quello È stato L'obiettivo Immediatamente Principale Che poi ci ha accompagnato Un po' Per tutti i dieci anni È stato Molto arduo E difficile E poi che ci siamo Resi conto subito Che non c'erano i soldi E quindi la tendenza Era da parte di molti O dichiarare il dissesto O fare cassa Vendendo i gioielli Privatizzando Licenziando Insomma Approfittando Dell'elezione Quindi di non Una diretta responsabilità Perché eravamo stati Appena eletti E fare quella Che si può dire Macelleria sociale O svendita Del patrimonio Insomma Mortificare una città Che era stata mortificata Da una politica Incapace E inconcludente O peggio ancora Che c'era stata Prima E devo dire Che l'emergenza di fiuti L'abbiamo Incredibilmente risolta In pochissime settimane Perché c'è stato Un lavoro Proprio Fisico Anche nostro Io mi ricordo All'inizio Le nottate Passate Insieme ai lavoratori Con i compattatori Con i gasoloni Con i mezzi di Asia Che erano molto meno Rispetto a quelli Che ci sono adesso Quindi il messaggio Che si dava Uniti Dobbiamo affrontare Questo problema Se togliamo i rifiuti Possiamo parlare Di riscatto di Napoli Quindi quello è stato Il primo obiettivo Nel quale ci siamo Concentrati E poi Aggiungo Anche Alcuni messaggi Che davano L'idea Della visione Di città Che avevamo Ne cito solamente due Mi taccio Uno L'acqua Che poi è rimasta Napoli L'unica città Da aver attuato Il referendum Sull'acqua pubblica Pochi giorni dopo La mia elezione Ci fu il referendum 27 milioni di italiani Votarono per l'acqua pubblica Noi pochi mesi dopo L'inizio del nostro mandato Abbiamo realizzato E attuato quel referendum Trasformando una società Per azione Un'azienda speciale Acqua pubblica E poi ricordo La liberalizzazione Gli artisti di strada Che prima Con la vecchia amministrazione Per esibirsi Pagavano L'occupazione Sullo pubblico Noi abbiamo detto La cultura Deve Disseminare La nostra città Quindi ho citato Due Ne potevo citare altri Due esempi Acqua Quindi il primo bene comune Come dice anche il Papa La cultura I giovani Come arma di riscatto I rifiuti L'onta Che bisognava risolvere Per ripartire Dicharare il dissesso Significa Dicharare il fallimento Dicharare il fallimento Significa Una serie di effetti A catena Pesantissimi Creditori Che non vengono pagati Licenziamenti Tasse ancora più alte Servizi Che funzionano Ancora meno Quindi non è che Se il dissesso Poteva rappresentare Un'arma utile Alla città L'avremmo fatta La città Si poteva salvare Dal dissesto E l'abbiamo dimostrato Nonostante i governi Non ci abbiano aiutato Anzi poi col tempo Si è dimostrato Che hanno anche Deliberatamente Ostacolato La possibilità Di un risanamento Economico Finanziario Della nostra città Quindi Il tema del dissesso È stato un tema Che ci ha accompagnato In tutti i dieci anni Hanno fatto di tutto Per non sostenere Una città Che meritava Di essere sostenuta Ma non perché Doveva essere privilegiata Rispetto ad altri Ma anzi Perché doveva Avere Quelle condizioni Che altri avevano avuto E soprattutto I napoletani Non potevano pagare Un debito Che non hanno contratto Perché Ricordiamolo Fino alla noia Che il debito In particolare Che appesantisce La struttura Economico Finanziare Del comune di Napoli È un debito Che deriva Da due gestioni Commissariali Dello Stato Il terremoto Dell'80 E l'emergenza Di fiuti Quindi il popolo napoletano Di entrambi i debiti È vittima Non è che ha contratto Il popolo È lo Stato Che ha fatto dei debiti E non può farli pagare Al popolo napoletano Poi c'è anche La malagestio Delle amministrazioni Precedenti Un disavanzo Molto alto Abbiamo trovato Una situazione Anche all'epoca Si faceva man bassa Con consulenze E tante altre cose Quindi noi abbiamo ripulito L'amministrazione Da tutto questo Tagliato dirigenze esterne Consulenze Stipendi Amministrato Con trasparenza Abbiamo evitato Il dissesto Nonostante I governi Hanno tagliato In dieci anni Per circa Un miliardo e mezzo Nonostante Hanno prodotto Norme capestro Nonostante Hanno fatto di tutto Per evitare Che la città Nonostante Nonostante Napoli Era diventata Prima Come crescita Turistico Culturale Nonostante Napoli Non avesse Più rifiuti E quindi Napoli Andava Sostenuta Non Attaccata Ostacolata E mortificata Quindi Nonostante Questo Noi ce l'abbiamo Fatta Abbiamo resistito Ma ci hanno fatto Pagare un prezzo Alto Però I napoletani Devono andare Orgogliosi Perché in questi Dieci anni Con le mani pulite Con l'autonomia Senza andare Col cappello in mano Ci siamo Riconquistati Un posto Nazionale Internazionale Come mi ha detto Una vecchietta Qualche giorno fa Incontrandomi Per strada Che stavo Con il mio cane Nala Mi ha incontrato Si è avvicinata Mi ha fatto col dito Così Non sapevo Se mi voleva Cazziare O fare un complimento Mi ha detto Io poi una cosa Ve la devo dire Grazie Perché avete visto Nata Voto a Napoli Un coppa Cartina geografica Tutti questi Momenti Devo dire Che L'amministrazione Me la sono ritrovata Ho ritrovato Dirigenti Preparati Competenti Onesti Coraggiosi Abbiamo lavorato Molto Con uno spirito Di squadra In tutti i momenti Più difficili Le delibere Le maestre L'emergenza Rifiuti Le opere Pubbliche Devo dire Che Palazzo San Giacomo L'amministrazione Ha lavorato Come una squadra E quindi Anche Quelli che avevano Il file Precostituito Come siamo entrati Ogni volta Che avevamo Un'idea Innovativa Dicevano Non si può fare Non si può fare Come sui beni comuni Oppure su altro Hanno dovuto Prendere atto Che noi Non eravamo Un'amministrazione Che gestiva L'ordinario Che non aveva Una visione Di città Noi avevamo Una visione Di città Attraverso L'azione Amministrativa Gli atti Amministrativi Gli obiettivi Politici Il modo Con cui Abbiamo governato Nel palazzo E tra la gente E abbiamo fatto Atti Delibere Costituzionalmente Orientate Come quella Sulle maestre Come quella Dei beni comuni Come quella Dell'acqua pubblica Come la partecipazione Dal basso E tanti altri aspetti Che hanno caratterizzato La vita Della nostra amministrazione In cui non c'erano Dei precedenti Qui abbiamo dimostrato Che la Costituzione Si può applicare Partendo dalla prossimità Partendo dal basso Partendo dal coinvolgimento Della gente E qui ci siamo ritrovati Stimolandoli sicuramente Facendo un lavoro di squadra L'amministrazione Facendo sempre capire loro Che non è l'atteggiamento migliore Quello di essere pilatesco Di omettere Di non agire Di non operare Per paura di sbagliare O di avere responsabilità Quando si ricopre Una funzione pubblica E soprattutto Una funzione così importante Come amministrare Una città Amministrare la capitale Del mezzogiorno In questo caso La terza città d'Italia Amministrare Napoli Se uno agisce Nel perseguire L'interesse pubblico E nell'attuare I diritti costituzionali Non deve avere paura Io ho cercato però sempre Di rassicurare Tutti i dipendenti Mettendoci sempre la faccia Qui non abbiamo mai lasciato Nessuno solo Abbiamo lavorato Con questo spirito di squadra Che ha fatto emergere Anche l'orgoglio Di essere dipendente Del comune di Napoli Dall'addetto all'anticamera Al direttore generale Dall'addetto all'anticamera